Che ne hai fatto della chiave della stanza? La chiave della stanza. No, andiamo! Ti ho dato la chiave prima di uscire dalla camera! No, non è vero! Ah, sì? Tu lo fai continuamente! L'hai fatto la settimana scorsa con l'assegno per le lezioni di pianoforte di Vecchi! Si può sapere che cos'hai? Mi dispiace, mi dispiace. Qual è il problema? Ho perso la chiave della nostra camera! Senta, mi dispiace. È stata una giornata lunga e... Chiaramente, siamo tutti e due molto ubriachi. Qual è il numero della camera? 220. Jordan Shows? Esatto. Ecco. Grazie. Grazie.